Salve cari amici, tutti e bentornati nella soffita di camera mia. Quest'oggi parliamo di Spider-Gwen numero 7, contenente la seconda parte del crossover Spider-Woman che vedrà coinvolte in realtà all'interno di questo numero le serie di Silk e di Spider-Woman, parte integrante di questo crossover ambientato in parte su Terra 65 e la seconda parte su Terra 616, la terra da cui provengono i nostri eroi tradizionali. Quindi che cosa c'è da dire di questo nuovo numero, qui a destra vedete le immagini, che si concentra molto sui due personaggi che esulano da questa testata. La prima parte si concentra molto sul personaggio di Silk, la quale viene detta nell'introduzione, altrimenti non l'avrei mai saputo, era vittima dei vampiri cacciatori di ragni e quindi è stata nascosta per anni e anni, una volta che questa minaccia è stata sventata, lei è riuscita a uscire dal bunker in cui era nascosta, ma ha perso dai fatti i suoi genitori. All'interno di questa storia qui vedremo il suo rapporto con i suoi genitori e poi la sua volontà di capire lei chi è su questa terra, che cosa stia facendo e che cosa faccia nella sua vita. Il secondo albo invece si concentra decisamente di più sul personaggio di Jessica Drew, ovvero sia su Spider-Woman, sul suo essere neo-madre e sul fatto che nei fatti sta abbandonando suo figlio e non per volontà sua, ovviamente è stata costretta a rimanere su Terra 65 in maniera del tutto inaspettata e la sua forte volontà di tornare a casa ha fatto sì che stia smuovendo diversi personaggi di Terra 65, in particolare Reed Richards, il mister fantastic di questa terra a trovare il modo di creare un portale per il viaggio interdimensionale. Che cosa... questi due capitoli sono abbastanza... è presente abbastanza azione, vediamo anche un nuovo villain qui introdotto in versione Terra 65 che mi piace tanto ed è forse una delle poche note negative di questo albo. Ci viene presentato nel capitolo di Silk, è presente nel capitolo di Spider-Woman, visto che effettivamente Silk si è messa abbastanza nei guai, come avete potuto vedere dall'immagine, ma la cosa viene risolta in uno schiocco di dita, addirittura off-screen ed è una cosa che non mi piace, che non sopporto, cioè fammelo vedere piuttosto, fammi un capitolo in più piuttosto che non farmi vedere off-screen come sistemano la cosa, è brutto, sembrano non avere l'idea di come finirla, poi capisco che è difficile illustrare crossover tra più serie, tutto quello che vuoi, però un minimo, un minimo, fammi vedere come finisce, decidete prima come fare queste storie. Al di là di questo, la personalità dei personaggi coinvolti risulta essere molto interessante, personaggi che acquistando solamente Spider-Man io non avevo avuto modo di conoscere e che, devo dire, mi ha piacevolmente colpito. Vedremo come prosegue nella terza parte, sono ancora deciso se continuare dopo questo crossover, almeno ho abbastanza intenzione di continuare dopo questo crossover, non so se continuerò a fare i video sulla serie, visto la poca partecipazione, poche visualizzazioni della serie stessa, rimarrò piuttosto, rimarrò comunque continuerò almeno fino alla fine della gestione, diciamo, pre-nuovo Marvel Now e sarò curioso di vedere come Spider-Gwen, dove Spider-Gwen finirà col Marvel Now, visto che ci saranno alcuni cambi, alcune testate, inizierà con un crossover con lo Spider-Man di Bendis, quindi non so perché, ma ho il sospetto che Spider-Gwen ci abbandonerà da questa sede per andare a finire nello spillato di Amazing Spider-Man. Staremo a vedere, detto questo noi ci vediamo ad una nuova video opinione del canale. Ciao!